Per me essere la madrina del Gay Pride di Napoli del 2022 è davvero un privilegio. Sara Bianca Guaccero, la madrina del Napoli Pride 2022, presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo con le associazioni che organizzano ed animano la manifestazione. Appuntamento sabato 2 luglio alle 15 in piazza Municipio, dove alle 17 sono previsti gli interventi politici. Alle 18 partirà il corteo, che volgerà verso il lungomare. Arriviamo a una settimana dalla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull'aborto, a pochi giorni dal Pride di Istanbul vietato con gli Drandi e all'attentato ad Oslo il giorno prima del Pride con due morti. È il momento in cui bisogna assolutamente fare il Pride e la comunità tutta, non solo le persone LGBT, ma tutti i cittadini e tutte le cittadine devono decidere di scendere in piazza per ricostruire un fronte unico internazionale in difesa di tutti i diritti civili. In questo momento sono sotto attacco i diritti civili di tutti quanti noi e di tutte quante noi. Saremo con un nostro spezzone dedicato interamente al mondo della scuola. Con noi c'è la professoressa Aiello, che è una docente di Torre Annunziata, che sarà la nostra testimonial, che manterrà lo striscione insieme a studenti, docenti, sindacalisti e volontari dell'Associazione del Servizio Civile Nazionale. La scuola è il luogo ideale per lo sviluppo della mente e della personalità. Quindi noi cercheremo di fare di tutto affinché i nostri ragazzi possano divenire domani degli adulti maturi nell'accogliere tutte quelle che possono essere le differenze della persona. Il Napoli Pride ha il patrocinio morale del Comune di Napoli che è anche fra gli organizzatori dell'evento. Il professore Manfredi, da rettore della Federico II, era stato uno dei primi rettori in Italia a avere anche in qualche modo voluto la carriera alias per le persone transgender. Quindi in continuità con una tradizione forte e consolidata di una città pronta a difendere i diritti civili. Sono felice di essere qui non solo come assessore ma anche come esponente di Archie Gay perché sono uomo single gay che è riuscito ad adottare anche una bambina, è il primo in Italia e questa cosa è nata a Napoli, è successa a Napoli e non a caso succede a Napoli perché Napoli è una città all'avanguardia, una città aperta al cambiamento e alla diversità e con il Pride, noi lo ricordiamo ogni giorno, che siamo tutte persone e in qualità di persone siamo unici, diversi e imperfetti. Dobbiamo camminare e marciare perché ancora oggi, e lo vediamo per tutto quello che sta succedendo nel mondo, è importante lottare e difendere i diritti fondamentali che evidentemente ancora non sono tutelati a sufficienza. Quindi oggi ancora più fortemente questa amministrazione sostiene queste battaglie in tutte quante le sue forme. Ci sono ancora tanti esempi e casi di discriminazione e di violenza e la città deve essere in prima linea, sicuramente nel Pride, ma poi con una politica di azioni quotidiane che sta portando avanti. Il corteo si concluderà in via Nazario Sauro, dove si svolgerà una festa di artisti, musica e colore con la direzione artistica di Diego Di Flora, a cui parteciperanno fra gli altri Valeria Marini, Alexia, Marco Carta, Maria Mazza, Virginio, Vergo.